oee bella che cazzo è? guarda le abilità c'ha due abilità è quella del vento la spada a due mani quella del tizio vento oh bella e guarda cosa c'ha pronto vai 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 sta aperta ooooh questa è bella cazzo e poi sta merda di turmire le cazzo mi chiamo adesso io spariamo in faccia quella guarda 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 questa che le sto prendendo tutte però questo qua va a scala in pos ti ricordi che nel primo c'era uno spadone a forbice se usava un bot guarda no l'hanno rimesso un triangolo è come l'attacco forbice del coso bellissimo è semplicemente corpo a corpo c'ha anche abilità c'ha anche abilità ma quelle proibite quelle proibite non le posso usare tu hai le divine sì però io dovrei io dovrei usare ancora dei punti abilità che ho sbloccato l'altra volta però li userò la prossima volta che vorrei ancora c'è un po di punticine da vediamo come sarà oggi giocare a questo gioco con il polso andato a far culo allora parliamo cosa parla questa tizia il vargo dello specchio chiuso per il rigide creto inquisitore un visitatore ti ha convocato presso la sua tenda ovest della vallata del clemente recati la e parla e solo allora si sarebbe ripartire la porta riapri la porta ok a ovest a ovest quindi di qua dobbiamo andare forse dove c'era tizia che non ci faceva passare magari è vero andiamo di qua è perché a ovest è l'unico punto a ovest abbia sbloccato la zona ecco perché è si vede aperta qui signori nella tenda hanno chiesto di conferire con te inquisitrice ok andiamo a sil che piacere grande poterci incontrare no come mister dante tv che piacere no che brutto minchia dovevo modifiche dobbiamo credo la roba del nome che piacere poterci incontrare casomai non l'avessi saputo re alnor non sta bene non so che razza di caos abbiano combinato i maghi con il loro ritorno ma l'hanno avvelenato nel corpo e nell'anima siamo venuti qui in gran segreto il regno di pietra altare non deve sapere nulla del suo del suo stato ok penso che la nostra sola speranza di curare re alnor sia di portarlo alla salva degli antichi devi trovare la salva degli antichi grazie al cazzo bene ma andiamo un po crogiolatevi nella mia luce mica che cazzo è radagon bene infatti basta guarda al cielo guarda niente ok ok abbiamo una missione cioè andare a cosa che siamo gattino io avevo uno dei talismani qua che dice più più 5,3 danno contro maghi ed è leggendario di livello 4 però questo qua avevo pensato magari di potenziarmelo perché comunque fa danni contro i maghi che sono praticamente tutti i boss del gioco e non è male questo qua poi c'è vabbè un po di danno mischia un po di velocità d'attacco e accumulo ira non sembra male ho guardato un attimino le taglie ci sono vabbè elettromante che quanti aeromante elettromante aeromante del castello cosa livello più alto portentomante ma venenimante che cazzo è forse io guarda io vedo tutto grigio significa che l'abbiamo già fatti tranne uno che è arancione portentomante di ball gheran no io li vedo tutti bianchi tutti bianchi e tipo i nomi non li vedi di un colore diverso si sono grigi ma perché sono delle ultime sono posti è anche il vernomante perché io trovo anche io vedo tutti bianchi tranne uno che ha colorato non vorrei che è una paura di polga ora polga rna poi il porteremo a fare questo è un ottimo portentomante si perché gli altri sono tutti grigi vediamo bene ma poi andiamo avanti ma perché gli altri sono l'aeromante di quel luogo del luogo il portentomante non so che cazzo sia in effetti io a me sono preso anche le accette di pietra bellissime città città sono un po più forti o non mi dire che a lui ma questo o porco due per miglioro quando li faccio a dire caldo ma è lui portentomante mica che ma adesso di sé a fancura ma ormai facciamo tanto è uno dei più scarsi in realtà è abbastanza facile la sua boss e ora ai o fa sempre danno a verità fa un male boia vero però cazzo 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 merda pur casperlo fa male sì però è uno dei più scarsi perché ti spama degli attacchi di merda no il problema sono questi schiavi del cazzo con le fruste che ti rompono i coglioni ah comunque quell'arma lì va con la roba di luce la mia se credo perché se fa la roba di luce ti consiglio di aver poco luce 100 per cento perché c'è un boss che vende pugnali e c'è un pugnale che ti aumenta l'effetto luce e io ad esempio sto usando quello di ghiaccio meno potenzia di un bel po almeno di dieci punti che comunque non sono male 10 io soltanto devo prendermi di quelli lì perché io sono quello di fuoco e gelo e non c'avano un classico ah quello non è di poco scusa quell'arma lì non ti aumenta un pochettino è un po simpio aia fai la prova che vede un po perché c'è anche loro molto arco puttana occhio curati curati io faccio intanto fare questo po apri ok intanto è sceso volevo andare in realtà aspetta un attimo c'è che c'è solo cinque fiaschette vai aia ha preso a me adesso come fatto non vedaglia no merda ste cazzo di trappole va presato come scuote tranne l'ultimo che ha saltato per spavento ma colpito anche a me cazzo oh no si rompi cazzo vabbè meno male che lasciamo a scioltare ah c'ho anche un amuleto che mi son preso dal boss cavo strana aia non mi dicevo a passare c'ho anche un amuleto che mi son preso dal boss che dice che dice che hai più possibilità di trovare l'ulto dai nemici quindi tipo se ti vuoi luttare un'arma di un nemico eccetera magari te ne da si ma quelle lì sono sempre state però io beh c'è già quello che mi aumenta la salute che mi serve con la mia biedita aia cioè se non cazzo di te anche mi serve la vita ah beh ha scappato più 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 no vedevo un attimo che cazzo c'era là sotto perchè mi sembrava ok boss fight bene 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 oh no no dai ma lo fanno apposta allora vado lì non devo curare eh no cazzo no no e dai però ah merda e muoio beh però con tutte e due non si può far così dai almeno nelle boss se hai fatto il boss secondo levalo dal cazzo dai aveva anche poca vita se ce la fai e ora non lo stai neanche beccando ti dico ok ora si ma hai lootato eh vabbè ahhh minchia fanno un bel po' di danno queste oh fammi curare che istiano che istiano mangio io minchia si uscela di ghiaccio spoglia spoglia niente anche le accette eh 38 te fa un culo magari perché subisce di terra ma si vabbè prima andiamo allora noi dovevamo dobbiamo esplorare ancora un goccio questa zona mi pare c'era delle porte forse mi ricordo che c'era una una porta che non si apriva perché dovevamo fare un mago di quelli normali non incappellati appellati appellati si io non mi ricordo dov'è la zona ci possiamo esplorare tutto adesso vediamo un attimo questi qua però via aia bello però che almeno quando batti orco mondo da lui prende la cosa forbici ah si si ci sta poi stavo pensando lui da fare l'appellato appellato quale cazzo è quello che ti dà le maschere non è brutta quella maschera innappellato ah a te ma non hai vista te guarda che cosa ma la maschera del tizio del tizio di terra non ce l'ho io ah si eccola qua pesante classe 4 vabbè vabbè dai è simpatica eh si è carino allora adesso mi pare che avevamo fatto tutto qua sotto secondo me che dovevamo no però abbiamo un visitato sotto non mi ricordo cioè questa zona qua è un pochino più inculato eh quasi poi anche perché Loki non mi rompe le coglione adesso scendi giù vai giù puttana perché è un po' tutto più un casino questa zona qua ah si ma perché poi non si capisce benissimo è tutto deserto ma puttana perché aveva avuto la stessa idea per fuggire al bastardo perché io per forza ci deve essere un altro boss qua sto parlando con questo ci dice qualcosa allora perché aspetta un attimo guardiamo un po' tutto guardiamo però qua sotto prendevi il rampino mi sa si sotto prendevi il rampino si ma niente allora a meno che non c'era una porta lì mentre si andava dal rampino andiamo a controllare dai andiamo a controllare perché non si sa dobbiamo esplorare tutte le zone siamo partiti allora lì dove c'era la testa è dove siamo partiti dall'inizio quindi ora esploriamo con calma tutto qui il backtracking è essenziale nel gioco peggio che negli altri souls ah qua abbiamo tirato questo qua e qua si prendeva ok niente qua non c'è niente mi sta stuprando perché tutti mi stuprano qua dentro ho capito che sono una donna però dai sì sì sono scappato vaffanculo e che cazzo però dai ho fatto un commento un po' troppo maschilista eh vabbè non è un tipo di terra e niente grazie non è un tipo di terra evitiamoci tutti gli stronzi però ce n'è di zone qua sotto ma sti stone si scendono oh il campino qua ci siamo mai stati eh la donna ah sì qua avevamo preso ok non c'è niente dalla parte dove sono venuto io qua sei venuto te andiamo giù andiamo giù che dolore che mi stia piace a destra non ho un autoviolentatore ma che posto di merda sto qui oh merda ho pure io cazzo no mi devo curare oh due oh merda oh merda arrivo 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 che troia questa merda sto scappando io sto andando in giù questo bastardo non mi avrà è scappato sono andato tutto giù ma qua sta risalendo chissà che si chiude qua ok uno l'ammazzato si si chiude qua perché qua ci sono i nemici che hai ucciso te ok qua è chiuso e siamo a posto dobbiamo andare tutto a sinistra dove è ammazzato i tizi aia si esce ed arriviamo dove c'è il tizio cavaliere che ci ha fatto sbloccare la terza zona sei fischia tua madre merda merda crepo bevi ok trappola di merda mi ha lanciato via e stavo per crepare fogne le fogne no no ah sto parlando nei piani inferiori del mausoleo di bolgera lochi del bolgera del mausoleo piani inferiori del fogne a ovest dobbiamo andare a ovest dove stavano per le fogne ovest nei piani del mausoleo se fosse chiuso guarda attorno al trono in cerca di una chiave ok qua c'è una forza non è ancora aperta no ma si può aprire un cuore appellato ricordatela perché non so dove sei è dal tipo a sinistra sotto dal tipo dove siete a sinistra vai sotto stavo ritornando indietro dove eravamo prima aspetta allora ci ne sono forse due di porte vedi qua di qua vai di qua scendi qui sotto ed è qui la porta ah mi sa che allora era quella lì la porta si era questa qua la porta che avevamo trovato chiusa si 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 ci serve un appellato però più di aver battuto di nuovo quel tizio là cazzo eh ma mi sa che è un appellato nuovo forse non possiamo non penso ci conti non penso ci conti sempre i soliti se no minchia sblocchiamo le porte in due secondi allora andiamo verso andiamo verso ovest andiamo eh siamo verso ovest matti ovest a sinistra ah ma qua non stiamo andando verso destra eh appunto ah poi c'è ah aspetta l'ovest è sempre a sinistra eh si si andiamo allora ma 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 tempi di bolgeran noi dobbiamo andare ai piani inferiori trono ai piani inferiori allora evitiamo tutti gli stonzi che minchia fatti un po' piani inferiori eh stiamo qua ai piani inferiori per forza ok allora cosa dovremmo sbloccare eh però qua non abbiamo pure vero c'è quel cazzo di cosa non è che bisogna ma come si fa o andare dalla zona nuova che magari sblocca il doppio salto è vero che nel primo c'era il doppio salto giusto a parte che noi dobbiamo ancora sbloccare tecnicamente il il delta plano lì ah si andiamo allora facciamo una cosa andiamo un attimo nella zona nuova appena semmai sblocchiamo subito la cosa prima di esplorarci tutta la mappa nuova perché le zone basse sono queste cioè più che in profondità quello ne so che da cazzo possa essere allora possiamo fare così allora possiamo possiamo fare una cosa anche esploriamoci un attimino tutto il punto qua anche se via con ste trappole di merda è una rottura di coglione questi tizi via i tizi non li so non li voglio proprio vedere ok la trappola ah è vero mi prendo sempre io i colpi comunque c'ho la del trono il trono era suo ma non c'era un cazzo dal trono eh ho pure detto prendi come riferimento il trono e poi aia prendi come riferimento il trono e vai questo ah qua c'è la zona che avevamo già visitato però avevamo finita questa beh qua non dovrebbe essere qua sopra ci avevamo visto pure il boss ma non c'era un ca che cazzo è questa scultura forse è quella per il mago di 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 ah sì porco il tuo e se è una merda qua c'è qualcosa qua c'è ranger faccio un tipo oh usa le rone per raggiungere il pantano di corvius ah è lui che ti dà le robe del corvius ah ah ma mi sa che questa zona qua è la zona sopra quella che abbiamo trovato adesso prima sì l'abbiamo già visitata niente questo qua è già fatto aio ora lì che non c'è il vento non c'è non c'è un cazzo chissà cosa cosa come facciamo ad andare dall'altra parte sai quel doppio salto perché qua c'è il trono ah qua c'è il trono ma l'abbiamo già preso una chiave allora ci ha permesso di andare là dove siamo arrivati sai eh già però perché qui c'è un coso con un lutabile quindi l'abbiamo già presa la chiave e allora sì l'abbiamo già usata allora sì dai allora aspetta un attimo coprimi un secondo che guardo nell'inventario nelle chiavi allora chiave della valle chiave conferita per valle clemente no allora una chiave coperta da l'ordura trovata vicino al trono del mausoleo di coso ha lasciato una macchia d'unto nella borsa di tela in cui si trovava forse le voci di un passaggio nascosto nelle fogne sotto il tempio non sono del tutto infondate affanculo è proprio qua dovevi venire pezzo di merda madonna papa del cazzo ah beh allora andiamo a nuova ma mi sa che allora sì l'abbiamo già sbloccata matti probabilmente e per andare là ci dareà il potere eh servirà tipo un doppio salto a parte perché non mi sembra che siamo in un punto tanto tanto avanzato del gioco è semplicemente la seconda zona allora aspetta un secondo perché io questa qua fa sì luce fa fuoco ma fa anche luce io vorrei un attimo magari io vorrei rafforzare questo sai che ti dico io prendo la prendo la roba del suo personaggio però perché poi sono che merda cioè se rafforzi se rafforzi gli artefatti ti cambia tutte le statistiche eh vaffanculo allora ok la mia arma è questa pugnale incrementa la potenza d'attacco quando eh ma vedi matti questa roba qua non serve a niente perché il chiodo celestiale che dovrebbe potenziare la mia lancia c'è scritto incrementa la potenza d'attacco quando la la tua salute è inferiore al 20% cioè non ha senso io non rimarrei mai sotto il 20% posso prendermi quella da gelo però non ha senso prendermela aumenta la difesa fisica vedi cioè queste qua sono più utili no sono un coglione puttana Eva a gran lama di classe 3 questa qua me la prenderei quasi quasi sono sprecato poteri a lama ma dai tanto per la faccia mi sono sprecato ma vaffanculo ma allora che senso a potenziare sti manufatti che intanto li trovi sempre più forti eh non lo so secondo me li devi tenere per quando trovi qualcosa di veramente sì avevo quello lì che minchia avevo quello lì che faceva il 5% in più di danni contro i boss arco 2 ma vaffanculo questo lo purifico no vaffanculo purificato ecco vedi questo qua aumenta l'attacco luce questo qua aumenta l'attacco luce non è male mezza lancia classe 2 la prendi prima prendiamo questo vediamo se posso ok no va fa un culo allora tanto vado giù io decotto di bruma che cazzo è sto decotto di bruma allora vedi ad esempio Matti il mio il pugnale di fuoco da 33.5 aumenta 36.9 l'attacco il mio attacco quindi vuol dire che è buono ah e quello che ho preso di luce aumenterebbe lo stesso a 36.9 quindi sono perché c'è l'arma di fuoco e luce quindi alla fine valgono la stessa cosa valgono ah ok quindi ok io ho già potenziato i miei cose l'unica cosa che voglio vedere una candela multigiocatore mi servirebbe qualcosa che mi purifica dal veleno io non ce l'ho cosa che mi purifica dal veleno cazzo ok io sono poi dal coso ok quando vuoi mica puntavano vediamo dove cazzo andrò potevo forse vedere se livellare ho 20 mila nala vieni giù veda su quella troia fate un attimo arrivo e c'è quello vai giù vai giù guarda di michella eh porco dio stavo muore no 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 bisognerà per farli andare a fischiare vabbè ci sono vediamo cos'è solo 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 ok allora dove cazzo sei andato? sinistra o destra? sinistra sei già avvelenato? no fiasca benefica è antidoto che cazzo è fiasca benefica fiasca benefica è lanci però avvelenato ah ma vaffanculo allora fammelo togliere per togliere equipaggiamento fiasca benefica se li muovi mi ricorda un bottolo ah è quello lì che ti fa diventare avvelenare no ah cazzo veleno mi ricorda un bottolo la zona che c'era anche nel primo questa non la ricordo no non te la ricorda no niente allora la sinistra si poteva andare su o c'è un altro di questi cose mi sa che lo sblocchiamo qualcosa qua anche perché nella prima zona ce n'è una c'è un titolo ti sento un po male ti senti male ma si ti sento tipo tutto raschiare no no chi parla come mi senti adesso ti sento sempre tutto robotico boh è strana sta cosa boh prova a staccare e riattaccare le cuffie saranno scariche ma affetto è un attimo controllo no hanno due tacche ah boh aspetta un attimo aspetta un attimo la spengola e riaccendo adesso come mi senti ti sento sempre male boh magari è un momento boh perché prima ho avuto un attimo un momento che sembrava che ci stessi distaccando eh cosa facciamo parliamo prima col tizio oh là c'è già una caccia allo stregone andiamo a parlare col tizio se ci può puttana c'è però una caccia che si può già prendere ma non ci arrivo cazzo ah non ci sei arriva saltando un attimo che ci risolveva il doppio salto per forza qua c'è bisogno ok ah e qua sopra poi c'è una una porta chiusa perfetto quindi di qua non si può andare se non a sinistra e poi invece allo spawn si può andare a destra ok questa è l'unica mi sa che serve per forza il doppio salto allora cioè non mi hai visto ah ah oh madonna l'ho chileva tempo dei coglioni pure ma che cazzo è oh ma è una trappola a cristo dio sì che è una trappola no sì ma volevo capire cazzo sono quelle scuole no 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 puttana no ah ti toglie le anime forse vedo che c'è il simbolo delle anime quando vai lì boh vediamo un attimo ti sta attaccando le cuffie sento che mi si stacca non capisco il perché boh ti sento male boh sarà per il fatto che è dietro la chiavetta mi fa strano ma guarda adesso la sto tenendo dietro io la chiave anzi fammi un attimo puoi sentire un po' Matti 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 che cazzo no mi hai fatto ricordare preferisco mettere la chiavetta davanti quando non giocaremo che non mi serve il controller quello Matti porca puttana che cazzo era quel coso lì non lo so allora non so io il perché allora questa zona qua mi sembrava un po' troppo strana perché era un po' troppo tetra sono andato vicino alla cassa l'ho colpita non so perché l'ho sentito nel mio cuore di colpirla minchia era un mimico era orribile non l'hai visto? no ho visto alla veloce che mi stavo mangiando ma buona era orribile ti giuro no no ma è tremendo quella storia lì ho capito ma quanto cazzo van veloce sti cosi ma non c'è manco il tempo un po' di arco mondo ma cosa mi sta togliendo e non capisco che vedo le a vedo c'è il simbolo delle anime ma perdi vita? no ma perda vita minchia c'è lo stesso simbolo se noti delle anime boh non so cosa sia chissà perché no qua non si può andare allora qua c'è il tip line e dobbiamo trovarlo ma torna ti giuro che cazzo il mio amico mi ha fatto cagare a dorso ma perché il soldato è un grande è un grande quello oh 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 divora divora porno il miac ah ma il fungo l'acquire della natura è stato sovvertito l'avanzano il marzume che accompagna il fungino mante ah è quello è quello che avevamo già affrontato che ci era spuntato a caso vabbè non mi dà niente interessante poi facciamo l'avventato serve c'era già una porta chiusa mi pare sì ma bisognava non mi ricordo cos'è sta roba amanita 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 e minchia un materiale forse è da eccola qua è un materiale epico materiale è un materiale epico cazzi è di su allora qua che sembra resistente mostra è su ma è continuata a parlare giù si può andare anche a sinistra oh madonna matti non ti sarà feste questo ah vabbè adesso mi ricordo matti la zona che mi dicevi te sì più sopra che qua però aspetta si poteva andare anche a sinistra ma di qua non possiamo andare ci possiamo solo scendere ah non si poteva scendere di lì si scende si può scendere ah c'è anche un argettino che c'è una trappola bro però non possiamo poi più risalire come no si è oh c'è una trappola ah mi sa che porco porco di mi l'ho presa e non ho preso manco l'oggetto cosa dava ma roba per il farming cavottana andiamo di sopra il diamovo prima di cadere giù perché si può cadere giù ma come cazzo fai a non farti infettare da ste cose che porca puttana rotoli come ho fatto io faccio due aspetta che sto anche morendo fammi curare va però sento che io sono ma prendo danno lo stesso che vita di merda ok ci sono due scelte si poteva andare anche a sinistra e c'era ancora un percorso a sinistra aspetta un attimo che c'è non è che vuole si può fare pipì devo alzarli pipì vai vincchiamate ne doveva fare andiamo a lui ma cazzo c'è un nuovo resto andiamo a casa a questo punto non so spiego più avanti la cosa perché allora andiamo quindi avanti qua verso sinistra più che giù si no è a sinistra in alto non si può andare ah no non c'è un cazzo non c'è un cazzo ho già controllato si può andare sotto e sotto c'è un boss no ok porca troia purco 2 che donno ma il boss già visto lui giusto eh sì è quello del veleno mazzi è quello che ho io è quello della mia catana che poi non so neanche se è lui quello che poi dobbiamo stiamo cercando però vediamo un attimo no noi stiamo cercando il fungo allora qua si può andare avanti se tutti i fungo però era solo adesso come mi senti Matti? eh sempre male sempre male? va voglio sentire un attimino come è in live perché mi fa stile la nostra cosa si è vero come se c'avessi del catarro in gola si è vero ah si poteva andare anche a destra dico addiamoci vado che è tanto minchia oddio doppio salto se no si c'è che cazzo è quella bestia lì? vedi questo secondo me è una specie di portale un qualcosa che ti fa riandare poi sai cos'è Matti? ti ricordi che ti ricordi che per saltare o per le certe abilità nel primo le zone cazzo mi pare di sì perché non potevi usarli i poteri quando volevi bisognava avere dei punti specifici mi sa che qua è la stessa cosa per certe abilità ok di sotto non possiamo andare perché servirà qualcosa perciò andiamo di scuola di destra perché si poteva andare ah si giusto io volevo andare lì infatti però ho sbagliato strada mi sono rotto il cazzo ci sta adesso ah c'è una porta con cosa si apre? con un cuore perfetto basta un cuore mi è spawnata non ho certo da sotto il culo vabbè ah c'è il pizzo ma non si può andare in là si qua si nota un botto che dobbiamo prendere da più salto si però di se cazzo dobbiamo andare per prenderlo cioè non possiamo andare da nessuna parte ora no vabbè anche da dallo spawn iniziale a destra c'era una strada quindi magari beh è vero in effetti è vero beh ora vediamo se facciamo merda merda dio ho sbagliato ho sbagliato sono io che ho sbagliato oh 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 mi è spawnato il posto sotto il culo mi è spawnata aiuto c'è boss veleno si ho sbagliato il veleno che non se ne frega un cazzo a te allora dobbiamo tornare indietro ma ce l'è anche tu qua si è spawnata adesso ma cazzo oh ma non riesco a salire perché? ok dobbiamo andare solo di sopra mattina dita di merda dammi un bacino porca maria vinto c'è suo bambino la mia cazzo figlio di puttana no fatti un attimo ahhh vieni Venite dai, vieni, 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 ho trovato il fungo, si, dove sei? Allora, una volta abbattuto lui forse possiamo andare a prenderci il coso, vai di lì, continua, poi sali su, tento la trappola di merda, hai il puntoni, e lì qua. Eccolo. Quanto danno fa sto coso, ma che cazzo è poi, è veleno. Guarda, madonna che danno, ma non è veleno, il veleno è verde, che cazzo di danno è? A meno che non è, tipo, tossicità, tipo, e... Porco due, ma, cioè, mi son curato, cioè, porca troia. Che non è il culo, questo? Ma adesso, andiamo. Tento ad andare nell'acqua che ti avveleri. Sì, sì, ma ci sta un po' prima di avvelenarti. Allora, qua c'è il... Il boss a destra, guarda. Sì, è un altro, eh. Ah, è un altro questo qua, a destra? Eh sì, non è il boss, il boss è a sinistra, in basso. Andiamo a vedere, fammi vedere che boss è, dov'è? Qua che cazzo di zona è, serve a nire. Figo! Cioè, questo è per... Minchia, questo qua, figo, eh. Cazzo è il bastardo? È scappato. Perché lo conta... Ah, perché lo conta quello lì come un appellato? Vabbè, perché se però va giù poi in punti dove non possiamo andare, ce l'abbè nel culo. Conviene prima andare a fare questo boss qua, che se ce l'ha dato. Ah, io lo vedo che va in giù, ma perché? Lo stai andando? Esploro. Lo stai seguendo... Ah, stai seguendo. No, io lo stavo esplorando. Voglio vedere se c'è qualcosa da poter fare. Non si apre, allora a posto. Seguiamo la scia. No, probabilmente sì, ci fa andare, però... Quello là sembra... Quello là, minchia, se non dà qualcosa di armatura pesante, minchia, cazzo, minchia, era... Eh, io non l'ho visto, ma... Era grosso, con tipo delle pietre nelle braccia, cioè. Beh, minchia. Guarda un po' qua sopra. Appena ci sei io riposo, eh. Dimmi te. Vai, vai, riposa, riposa. Così ti spawni qui e andiamo dal boss. Cioè, quel boss lì ci ha fatto andare qua a destra per poi ritornare a destra subito. Puttana, io. Ah, è questo, eccolo qua. Figo. Ha le catene questo, aiuto! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa è sembra quello? Ho fatto una mossa stranissima, vatti. C'era anche il cappuccio, poi la maschera sua, che sembra... Ma io non lo vedo quel boss... Ah, no, sì, lo vedo che stanno andando lì. Allora, è sotto di noi. In qualche parte sotto. Ah, ci fa andare così poi a aprire quell'altra porta, sai? Quella porta che serve... Madonna, che ho rotto in culo, sta nebbietta, de cazzo. Bravo. Oh, ma... Oh, puttana Eva! Che cazzo è? Eh, è quello del fungo. Porre! C'è una mannaia. C'è una mannaia, matti, quello lì. Attento, 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 attento! Questo qua ti lancia uno sciame addosso, eh? Oddio... Ma questo mi serve, insomma. Sciame al bastardo. Questo qua sarà pesante per forza. Abbiamo beccato un botto di leggeri ultimamente. Ma tantissimi leggeri, comunque. Minchia, per il momento ci sono più leggeri che... Che poi io purtroppo non sono neanche di quei pesanti, perché ce ne ho alcuni pesanti, ma sono tipo... Guarda, guarda una cosa. Guarda me. Ti sto guardando, ti sto guardando. Beh, non voglio essere uno di questi pesanti. Voglio essere di quei pesanti, perché c'è la media della pesantezza. Ma noi lo abbiamo trovato neanche qua sotto, Matti, è vero. No? Qua sotto non ci siamo andati, noi. Vabbè, andiamo a battere il boss. Sì, ricordiamoci al dovere di andarci. Minchia, io li prendo tutti, sti cazzo. Aspetta, qua c'è un loot un po' troppo grosso. Che cazzo di besti, comunque. Oh, forza troia. Puro un attimo. Mi ha preso, mi sta facciando! Ma questo è del fizzio veleno. Eh sì, perché c'è il fizzio veleno qua. Nala, basta, cosa cazzo fai? Che raschia il pavimento. Noi dobbiamo fare sto figlio di puttana. Guarda, sta puttana. Cioè, il fungono me lo ricordavo così, zitto nel curo, con sta, con sto veleno. Dovamo scendere. Che puttana. Cazzo, Matteo, io devo scendere per forza. Ah, ma sì, ci siamo stamattiti che conduce. Io muoio. Sono morto. Per il violino del merda e colpistrello del cazzo. Siamo, se scendi giù di lì, Matteo, vai dalla porta, quella che ti serve il cuore dell'inappellato. C'è il boss. C'è il boss. Ah, perfetto, dovevamo andare qua. Ah, buono. Beh, perfetto, almeno così, affina ci finiamo il boss e abbiamo lui. Muriamo la porta. Forse è fatta apposta sta cosa. Possibile. Che brutto. Un bracciume che avanza. Si sa come sarà il cappello, vai, sarà se meno quello. Sarà un giro. Non gli abbiamo tolto il cazzo. Occhio, occhio. Merda, merda, via dalla nebbia, via dalla nebbia. Eh, madonna, che cazzata. Vai, vai, vai. Minchia, fanno un botto di danno le... Mi accette. Minchia, anche l'arco fa un botto di danno. Questo qua dovremmo averlo già parlato, no? Il funginomante. No, mi sai di no, Matti? No, no. La prima volta questo. Eh sì. Ah, guarda che hai fatto. È tutta colpa tua, inquisitore. Bene. La colpa è tua, se no... Io gli dico bene, voglio so. Bene? Niente affatto. Le mie creazioni erano un'esplorazione della bellezza. Falciate da te un distruttore spietato. Sono gli inquisitori del marchio i veri aggressori, non i maghi che camminano questa realtà. Abbiamo ricevuto conoscenze in grado di aiutare tutti. Invece l'inquisizione ci ha aggrediti e distrutti. Tutti avrebbero potuto raggiungere la simbiosi. Invece avete ucciso il sapere, la speranza, la vita stessa. Il caos che ci inghiotte è colpa vostra, inquisitrice del marchio. Accettalo e potrò riposare in pace. Tanto muori comunque, cazzo me ne frega. Andiamo ad aprire la porta. Ma sono spawnati pipi. Cazzo! Porca troia. Ma siamo tornati qua all'inizio. Ma... Scusa. C'è, c'è, c'è... Tutto sto casino per tornare all'inizio. C'abbiamo un'altra scia, Marti, però. No, sarà dell'altro tizio. Ci sto in due post! Ma ne metto tu e io! Beh, meglio così, dai. Magari ci... Fanno aprire altre porte. No, aspetta, non è la stessa zona, questa è un'altra. Un'altra? Aspetta, cura, perché qua, micchia... Sto morendo per via del guida. Allora, c'è a sinistra... Oh, aspetta! Ah, ok, qua... Qua a sinistra? Oh, c'è, sono gli alberi per l'anato. Oh, 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 oh! Buon Natale! Quale avveruloso inquisitore giunge al mio cospetto? Aventuriero, cacciatore, divoratore di maghi e protettore della vita. Al... Allato. Allato compatriota. Amico? Può chiamarmi amico? Dimmi cosa cerchi? Non dire niente. Dimmi cosa cerchi. Beh, sono la voce del pantano e parla a nome di tutti gli esseri viventi privi di parola. Purtroppo devo riferire un messaggio spaventoso. La bruma dei maghi sta soffocando questo tema. Quelle loro magie contro natura sono contaminanti e la loro bruma si spande come un vapore tossico. Traviando le menti e con... Oh, contorgendo le menti. E poi prendi per il culo me, eh, se sbaglio. Se io o mio simile diventassimo arsi di bruma, sembrerebbe quasi la fine... sembrerebbe quasi la fine di tutto. Ah. Ma che cazzo servono questi alberi di merda? No, non lo so io. Allora, io ne vedo uno qua sotto. Possiamo andare a destra o su? Vediamo un attimo su se è un continuo. No, perché io vedo, vedo, vedo un boss qua. Ehm... Ah, è un attimo. Mi sa che si è buggato. Ah, qua si attivano sempre le cose, eh? Perché se arriviamo in un... No, Matti, mi sa che mi si è buggato il boss, perché... Continuo a vedere che qua ce n'è uno, ma non lo vedo. Ah. Quindi niente, dai. Eh, lo vedo anch'io, ma non c'è il boss. Ah, beh, allora, ricordiamoci che... Ci abbiamo poi da a destra da passare a destra, eh? Ora andiamo un attimo su che voglio vedere se è continuo a qualcosa. Ah. Ci siamo collegati. Ah, sì. Quindi niente. Qua abbiamo fatto tutto, ok. Torniamo giù. Minchia, Matti, qua schiatti, eh? Meno male che non c'era da saltare. Allora, alla sinistra c'è l'albero. Qua a destra, invece... Qua c'è il rampino, però... C'è il rampino. Devi andare prima sotto. Puttana, tua madre! No, via, che mi stava per avvelenare. Cheggia... Ah, qua il rampino non serve a un cazzo. Oh, sì. Ah, sì. Qua serve. Ti fa andare ancora più avanti. Aspetta un po'. Oddio, che percorso. Oh! Matti? Porco! Marega... Gre... Speravo si chiamasse in un'altra maniera. Magda? Magda, sì. Eh, ma è un... Aio! Occhio, occhio! Opa! Ma questa qua ha i burattini, che cazzo? Occhio, occhio. Oio! Allora, io ho fatto col fisco i burattini. Mi c'è due addirittura? Trattellini! State calmi. Sì. Olè! Fatta! Mi gira di merda. Facci la roba. La strega! La strega! Vanquishet! Poi loro che cazzo danno? Non danno un cazzo loro, alla fine. No. Però non puoi prendere rimembranze o robe. Ma non puoi fare una beca con loro, praticamente. Cazzo... Attenzione! Ricordiamoci che ho... Attenzione! Attenzione! Oggettino! Attenzione. Trovato oggetto è scheggia di luna. Che cazzo fa? Vami a vedere? Oh! Sì, non godere così. Ricordiamoci che in basso a destra c'è roba. Capito. Sì. C'è l'altra roba da guardare. Ah, cosa vuoi fare? Vuoi andare un attimo nella mappa di prima? Eh... Ti dirai... Ahia, morco! Ti direi di schifo. Vai, va. No, come facciamo la mappa di prima e poi dopo stock facciamo un po' un backtracking delle mappe, perché c'era anche un'altra mappa che mi ricordo che aveva... È la prima. Abbiamo tre zone, Matti. È la prima, la seconda... Siamo, c'è un attimo sto backtracking. Vuoi andare nella prima o nella seconda? Che c'ha già là sotto la... 42.000 di fama, potevo andare a livellare. No. Di fama? Cazzo è? Rainbow? Rainbow, eh. No, la... No, eh. Il attacco al potere. Cazzo, lì, occhio. Cacci. Eh, gli stava mordendo lì dove c'ha il coso. Gli stava mordendo la gamba interna. Vabbè, andiamo... Eh, non lo so. A sinistra, mi pare, forse. Ah, sì, dovremmo andare giù di sotto, Matti, è vero? Di qua. Sì. Un'area in mezza. Sono venuto di qua, cinque minuti dopo. Eh, ha rotto il cazzo, sto tizio. Oh, merda, sei andato dritto? Sei giù di sotto. Ti aspetto? Sì, aspetta. No. Porco, zio. Porco. Però, mi sa che dobbiamo andare da un'altra parte. Ahia. Ma ci saranno altre zone, però io mi ricordo questo. Perché quel cerchio? Eh, ma se ti ricordi quel cerchio... Orco, due, che palle che devi... Quel cerchio è dalla parte dove non ci riusciamo ad arrivare. È qua sotto, Matti, eh. Sì, sì, ma non... Eh, dall'altra parte, dici? Ah, no, è là. Qua, però c'è un cerchio, è qui, guarda. Guarda. Ok, è attivato. Ah, c'è l'aggancio, vai, di qua. Visto, visto, te l'ho detto io. Perché dall'altra parte è impossibile arrivare. Ah, va. Ho fatto le stesse cose. Ah, sì. Niente. Va curi un geminato e ci ha dato qualcosa. Del caos. Uh, eccolo, l'ultimo. L'ultimo inappellato, Matti. Per poi andare... Divora Ture Vasari. Per poi andare a aprire la porta. Uh, sembra di sangue. C'è magia sacra nel sangue che scorre in singola vena. E interferire con quella magia è una profanazione. Ture Vasari è colpevole di questo crimineo. Il cuore del sanguomante, colmo di sangue rubato, deve essere divorato. Segue la scia di sangue fino a... Ah, 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 per sconfiggere, divora il suo cuore. Iniziamo. Questo speriamo sia figo. Che non sia fortissimo, perché sennò... Allora è meglio che ci mettono queste cose qua, eh. Mm, mm, mm. Arco! Uh, eccolo! Bellissimo! Minchia, vestito così, è fighissimo. Sembra uscito da Overwatch, quel tizio. Bellissimo, è quello con le pistole, quello. Mi sa che dà roba leggera, perché guardando il suo abito... È un po' troppo leggera, mi sa. Oddio! Ti pistola da via carta, muori, muori! Non ho più stamina! Minchia, quanto resistente. Minchia, cazzi! Aio! Fa tanto male, Marti. È andato su. Dobbiamo di non perderle l'anima. No, ce la facciamo, Marti, dai. Siamo forti per questa... No, di qua, di qua, di qua. Aspetta che... Capottana, figlia di zoccola. Capottana, figlia di zoccola. Ah uh... Vieni, mi banquiero. Chia guardali, guardali. Porco 2 che danno! Eh... cazzo abbiamo secondo te i bacchetti bastoncini quelli per andare poi all'avamposto senza perdere dobbiamo controllare ma io non credo martin attento la trappola è lì perché sono coperti anche dalla roba eh sì botana madonna che palle aspetta qua c'è il vai cure io non so se ce la faccio quanto cazzo di dare ha fatto quello di con un colpo di no matti no matti no andiamo via matti no ritirata ritirata porca troia sono morto occhio no no stai trasportando matti non hai le anime come non hai le anime eh no perché sono morto andiamo come cazzo andiamo a riprenderle matti sta puttana che danno sta puttana la eva minchia ma no matti ma che tanto fa eh porco due sì ma quella merda di pipistrello che evoca mi fa un danno della madonna cioè il boss non fa tanto danda come ho visto quel gargoyle del cazzo che ti sputa quella merda che è d'arbola che pietrifica anche veramente facciamoci il nostro livello e poi lo andiamo a ricacciare intanto sappiamo dove si trova ora però la mia cazzo di cosa dove cazzo è basta che segui me eh ma non ti vede già più e sono qua ah ecco tu anche la trappola ah 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 hai parlato dovrebbe essere qui qui adesso aioh è qui dovrebbe essere qua ok preso via via andiamo a livellare prima andiamo a livellare puttana la eva matti che roba orca bestia io quando ho visto la mia vita andava a puttana ho detto no qua no eh qua due con un colpo ci ha massacrato perché a me è un dardo solo uno due tre quattro cinque cinque livelli avrei perso stessa cosa io cazzo allora albero delle abilità vediamo un pochettino ok io ho potenziato i glifi a cinque ok io per il momento vado a posto di anche se io avrei un po' di punti cinque aveva undici punti da mettere no per il momento va bene così dai aspetta abbiamo già ucciso qualcuno dei loro vediamo che armatura c'è dai è vero per vedere se ha armatura leggera penso di sì andiamo ecco questo beh sì leggera di classe 3 uh con la maschera da cosa? tipo da persona 5 sembra oh è vero bello leggera classe classe erano lama bastone io poi voglio provare un bastone voglio poi farmi delle classi leggere balestra c'è solo pugnale e balestre si è roba che a me ripristi la salute all'uccisione di nemici concentrazione non salute ah no io l'anello vedo che fa ah l'anello? ripristi la salute all'uccisione di nemici bisogna vedere quanto fa cura in caso di contrattacco con pugnale no? ripristi la concentrazione bah vabbè non c'è un cazzo che mi frega ma forse l'anello a te c'è la gran lama a te le usi la gran lama dove la gran lama? nella prima riga all'ultima no no io vedo balestra e il pugnale io vedo ah forse perché non hai sbloccato perché io ho due righe e una io ho maschera ho il corpo poi ho il pugnale la balestra poi c'ho la mezzo ah no ti mancano allora io mi vedo di tutto mi sa che non ho sbloccato mi sa che non ho preso materiale per qualcosa che ti fa vedere ah aspetta legge porco 2 ma pure l'armatura ma pure il tizio di merda quello fungino? minchia leggera ma veramente no no non funginio quello con le mannaie porco 2 pure questo è leggera ma vaffanculo ma tutto leggera ma non c'è armature vaffanculo tu ne hai una ma forse non cazzo fare pesante per una volta per una volta dovevo fare quello pesante ma c'è un cazzo aumenta la potenza d'attacco però eh l'amuleto bello cerca tra i resti degli arsi di bruma genera ira no questo l'anello è forte ti danno un botto di armi eh perché ti danno le asce aumenta la potenza anche il ciondolo sia il ciondoli cioè sia il talismano che l'anello mi interligano no è bello che ti danno tutta roba per essere tank ma tranne le armature cioè c'è veramente due infatti anche la lancia la lancia di classe 3 asce da lancio queste me le prendo che danno pure gelo che va bene con la mia sì infatti sembra figa pure l'armatura questa va vabbè due prima o poi appena però mi arriva una pesante di quelle non super pesanti me la potenzio a schifo perché se no mi potenzio questa di ghiaccio perché veramente 3 pesanti 3 pesanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 leggere contro 3 pesanti che cazzo è 9 avverture leggera posso dire con una cosa comunque ho fatto la scelta giusta porco 2 per una volta che non voglio fare le leggere per una volta che io non voglio fare le pesanti e tu non vuoi fare le leggere abbiamo fatto abbiamo fatto l'opposto di quello che siamo noi e a me sta andando da dio potenzio ma è una merda cioè io c'ho l'armatura di ghiaccio e non la voglio neanche potenziare perché ora appena trovo un'armatura pesante ma non di quelle super me la potenzio schifo perché minchia fa un culo se no se vedo che fa schifo mi potenzio questa di ghiaccio vaffanculo però teoricamente dovrebbe almeno un'armatura dovrebbe essere più forte mentre mentre la spada vedo un attimo vedo un attimo perché intanto le armi devo vedere me le faceva vedere del tizio a parte che io devo trovare delle catane prima o poi perché non le sconso tu e vasare che cazzo è ah un sanguomante ci abbiamo già ah ci abbiamo la taglia vabbè andiamola a fare ce l'abbiamo subito qua ah ok andiamo a farla avevo capito perché si vede che si vado vai 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 facciamoci questo bastardo vediamo un po' vedo che è troppo forte prima o poi mi potenziero l'arma tanto ora anche se perdiamo la roba non è importante no infatti cerchiamo un cazzo pregamento basta prende sta trappola di merda che poi colpisce me io voglio fai curare orco vabbè sono arrivato più velocemente da lui aia dove cazzo è il fetente il bastardo sta proprio giù 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 è qua giù giù aia calabestia ladra che male ragazzi boss fa danno ma i minion molto molto così i minion sono orribili cioè ti fanno un danno del cristo oh sei pistando di merda è quella merda di prima che mi stava che non riuscivo ad ammazzare fammi curare cazzo di pipistrelli di merda vampiri del cazzo ma ti occhio boh è teletrasportato si si se teletrasportano sti chiara goku forco 2 cazzo che cazzo aspetta che c'era un altro vampiro mi sa che devo prenderci il loot vai 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 porca troia e guarda che poi mi andrò a far da mangiare si pure io facciamo questo qua poi la prossima volta facciamo un attimo di backtracing e magari anche nella prima tanto non durerà tantissimo infatti e poi facciamo un attimo anche qua perché magari ci sono delle altre pietre perché mi pare di averle viste in giro qualche tipo dall'albero grande mi pare di averle viste al cuore no matti matti quello quello verico vai vai minchia quanta vita c'ha ok fattana vaffanculo sta merda è di sopra non sai che non è di là minchia quello quel pipistrello quel gargoyle del cazzo è allucinante speriamo non è meglio che lui au aia oh baby vabbè la trappola qua fattana con la trappola è il nostro palico ormai ah io ne spazio un attimo oh comunque non mi sembra che abbia un grande arsenale di colpi merda eh ma poi quando quando poi siamo dalla boss è vero qua c'è il tizio di merda ok ok meno male aspetta che ci sono aspetta che c'è il cristo stanno venendo a stare di loro oh merda ma c'è sempre quella di oh no il dragoyle il dragoyle il dragoyle no mi ha preso no sono morto no 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 la freccia di merda va puttata continua a caccia continua a caccia continua a caccia continua a caccia va puttata la riva che caccia minchia che palle che ci fa spawnare da qua in teoria siamo più vicini questa puttana ti ho detto aspettiamo che aspettava con madonna divina che caccia ok qua c'è il sacerdote occhio ok ok lui sarà sempre su dalle scale lassù se madonna ah si cazzo di van vabbè vostra madre spussare che bello che certe volte la possiamo stunnare un po ah le mie anime cazzo è vero che danno che fa sto gargoyle porca puttana è vero che è lento sparare ma cazzo se ti prende tanto lento non è comunque ancora ti prende ti fa tutta la vita ok già quell'evento a caricare stai cazzo di cuffie non so che cazzo c'è non le sento che si staccano continuamente eh sì anche io sento ti sento male adesso di nuovo bravo è un cazzo tra di voi è sempre gargoyle spero che una boss fight non ha invuco il gargoyle ma è piuttosto i tizietti speriamo che non evuco nessuno perché se no è incappellato vabbè che noi saliremo poi di livello è inappellato non incappellato testa di cazzo incappellato ma che cazzo il so secondo me ma perché è un po' più sopra dei nostri livelli perché lui si sblocca la terza zona noi lo stiamo facendo cioè stiamo facendo una zona che sarebbe questa cosa la terza zona perché senza il manufatto questa è la seconda zona porco 2 vediamo ti prego dimmi che la ma è il perdi sangue nemmeno che ci abbiamo già madonna un cazzo no questo lo dobbiamo fare più avanti no forse forse disco ma sono morto la fetta le palle a questo no la kamehameha porca troia boffa porco 2 facciamelo fare una volta vai dai la boffa la boss porco 2 tutta la mia mattino questo qua è un casino no è infattibile questo questo qua è un dito nel culo questo qua ci apre altro che cazzi se prendiamo questo però arriviamo prima forse sì arriviamo prima porco disco porco disco sto figlio di puttana mi fa perdere già la vita questo non è di qua no è di qua matti peccato perché ce l'abbiamo già subito qui lui dai cazzo l'occhi però sali o no levati dai allora fallo stare giù aia oh sicuro porco che sto morto no muoio io no oh porca perdi la cosa mi sa però merda 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 aaa curati eh andiamo davanti quanto cazzo veloce sto bastardo vaffanculo vaffanculo ma dai sono crepato di nuovo ma si riesce a intuire poi ha il suo io non riesco mi stavo continuato a uccidere sto bastardo ma perché me lo fai salire mentre sto facendo la boss ma non mi ha fatto manco che alzare sto petto di merda mi fai curare brutto bastardo ti prego eh sono morto io dai dai ma oh ma è facile da fare ma ho capito ma non mi fa saltare vieni dai vuoi ricarci ancora una volta si ancora una volta guarda che non è tanto perché quando fa la kamehameha stella schivi poi gli deve andare da dietro perché poi lui fa quella sua combo di merda subito dopo la kamehameha ho capito che fa la combo l'avevo capito anch'io però porca puttana non mi fa manco rialzare e curare un secondo che minchia ma ammazza c'è un colpo suo mi sciotta è quello che io non riesco a fare non riesco a avere un secondo di tempo di pausa che va bene chissà però minchia questi boss di start and center sono troppo veloci aspetta attacca il tizio che bello poi lo possiamo stunnare certe volte ecco porco 2 levati dai c'è pure il cane che mi rompe i coglioni ognuno questo nuovo occhio occhio sei lontano sei lontano qua fai schiva curati curati un attimo cazzo mi continua ad attaccare sto deficiente cosa fa questo cos'è questo oh signor oh puttana purca bestia curati 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 la scatta è dalla parte sbagliata dalla parte sbagliata ma ti puoi tagliarmi no matte scurami come non stavo no ma cazzo ma cosa mi crea porco disco eh ma eh no dai eh la va messi bene cazzo arca troia dai dai ci fa dai dai fattibilissimo cioè fa un botto di danno ma si fa come niente il punto è che fate che sto finendo le cose per rumanizzarmi cazzo io minchia io ne ho 38 come ne fai a averne 38 scusami io ne ho 8 no adesso non sale oh bene lascialo lì e basta io ora gli provo a buttare molotov tutto quello che c'ho io butto pure aiutato il coso per l'inizio aspetta 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 ok guarda il fettente che sto dalla parte apposta cosa fa la ballerina di lanza classica ah merda le anime taglio ma quanto danno fa mamma mia mettiamoci la cura qua occhio forco 2 mi curo ok sono nato ok vai vai sono nato di nuovo oh 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 ma no ma vaffanculo no mi curo no 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 dai però occhio eh si va merda questo è ok via 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 puro via via inizia a fare vai vai ma dove cazzo le lancia porco disco no no sono oh matte fai un cazzo con le frecce curami ahahah ahahah aia no 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 dai dai ce l'aveva no no dai dai porco dai rifattavano ma fa il culo guardando porco due dai no ma dai era fatta era fatta porca portale era fatta porca troia bastava bastava una stunnata cazzo bastava poco bastava poco pochissimo no aspetta aspetta sono caduto ma porca troia ma hai affanculo merda non c'è niente da tirarci a cette e robe così non ce l'hai abilità ho la fiasca velenifero quelle cazze io io l'arco dai andiamo dai cazzuti guardami a cazzare e le armi ma che c'è però sei un pezzo di scrutino occhio ma perché le lancia di là di nuovo ma porco occhio a curati ok ma mi ha chiuso no sono andato nel coso cristo che palle quante ne hai di col non so se ti posso darle che poi come cazzo ti faranno dai che minchia se riusciamo a farlo quel bastardo ma è fattibile fattibile solo che porco mondo cioè ci va bene che è un moveset che a parte quella cazzo di combata che se te la becchi una volta poi se fa la combo di merda sei fottuto in culo mattina cioè veramente ti shotta ok ci rimuoviamo statice di merda vaffanculo guardami mangio le sanguinelle via ma perché me le lancia di là porca puttana eh vaffanculo il cane di merda mi ci si mette addosso eh porco di dai no occhio occhio no dai no dai no dai no dai no dai ok si però eh sono morto di nuovo di obono vabbè questa è inutile da provare ahhh ma ti fa ma ti fa ma io ma io ma io non ho un toppo veloci tutti i tizi cioè io non ho abbastanza roba per fare tutte queste cose veloci eh ma perché devi riuscirti a si deve riuscire a tenere un po' di oh senti io gli lancio pure ste bombette qua guarda gli butto pure da cotto flu fluginoso lì come cazzo si chiama perché dovrei avere un minuto di distacco da lontano gli lancio le robe però non ci riesco a me perché altre certe volte mi mi lancia le accette di merda dall'altro lato del cazzo ok ripariamo la stamina ora attacchiamo col pesante che magari lo riusciamo a stunnare subito vai vai col pesante vai ecco ora porco l'asciutato perca puttana ecco se riesce adesso occhio che chi va ma madonna ma un secondo porco disco porco disco ma cos'è il decotto di floggigosco di merda sì però allora cioè non è possibile che io mi alzo un secondo e lui mi colpisce e muoio cioè dai un minimo dammi la possibilità di una schivata non capisco come cazzo con r1 lo devo usare che cazzo fa uno è quadrato si ho capito ma io non ho ragione appena prima r1 è per lanciarlo non lo so che cazzo è quella roba che è ma il problema matti è che questo deficiente qua appena ti alzi ti attacca ti attacca manco dark soul 2 così manco in dark soul 2 stai così rossi mi fanno anche io la sanguinella aspetta aspetta sì ma io la uso in questi casi qua perché bene sì pure io pure io che non c'ho voglia di curarmi del tutto cioè voglio essere full video ok vai madonna mi ha capito nel culo minchia poi responato affanculo stavolta via e vabbè ho capito che oggi ci prendi è spawnato di merda è spawnato facciamo ancora una poi tanto il sale l'ho perso quindi al maker meno male che abbiamo livellato e io non ho ancora 3 poi basta e manco merda fattibile è fattibile cioè nel senso cazzo due volte l'abbiamo lasciato one shot sto coglione no allora farlo lo riusciamo a fare il problema è che dobbiamo beccarlo in punti che è subito attaccato a noi che non è questo qua il caso quindi ha tutto il tempo di poter andare ma poi il problema sai qual è è quando ti inizia a spammare la sua merda di roba c'è quello che ti è un po' no vabbè che spona la adesso porca broia perché moriamo laggiù matti dobbiamo morire qua vicino no vabbè che è un po' no vabbè che è un po' no vabbè che è un po' quasi basta matti non ce la facciamo si dai facciamo un'altra volta continuo la caccia perché la tengo qua dobbiamo almeno eh matti torniamo alla lobby usciamo ce la fa togliere ma è inutile tanto dobbiamo tornare al villaggio per forza no dobbiamo arrivarci quando siamo un po' più potenti perché non ce la facciamo adesso cioè è fattibile però ci facciamo tante di qualsiasi marcio che ci si più che altro la difesa perché poi come danno guarda che ne facciamo ma danno è un posto il problema è che io che cazzo devo fare io la mia armatura non si potenza quindi così cioè dovrei andare a cercare che cazzo la prossima volta facciamo il backtracking della prima mappa ma parte aspetta un attimo ma pure qua nella fase iniziale ce n'era uno sbaglio aspetta un attimo se non sbaglio anche qua c'è un una roba di pietra sicuro non lo so io lo ricordo allora qua no forse giù di sotto giù di sotto matte mi sa ah è vero aspetta un po' che vado se non son qua grotta degli infedeli no non c'è un cazzo ma io sono qua dove ci sono i simboli e non c'è un cazzo c'è una porta chiusa qua c'è il tizio qua c'è una porta qua c'è una porta chiuda che servirà se servirà qualche piave magari c'è il boss ok può darsi ma vada il simbolo non è che ti fa fare qualcosa no ho provato allora niente vabbè allora la prossima volta facciamo la prima mappa che ce la e spluriamo di nuovo poi semmai andiamo avanti un pochettino con la terza e appena vediamo che magari siamo un po' lì e ci andiamo a fare sto vampiro tanto ce l'abbiamo come taglia quindi quindi va bene così cioè ce l'abbiamo sì infatti ce l'abbiamo già qua di ora è tu revasari sì allora ma ti è facile perché è la menata più grande sai qual è è che non ci sono le zone quindi devi andare di nuovo da fronte cercare cercare dove cazzo è dargli i colpi che a parte che Marti ha detto sinceramente sai cosa se riusciamo a colpirlo di più forse riusciamo a fare qualcosa l'altra garanti senza più eh lo so però ho sentito che si è staccato non capisco il perché diobono ho detto che se riusciamo ad andare ehm a da lui colpirlo di più magari ci toglie anche più vita sì sì no ma tanto nel senso quello lì poi diventa facile perché già gli facciamo un bel po' di danno cioè abbiamo qualcosa di più forte ancora meglio lì diventa abbastanza io come un po' vedere l'armatura su l'avevamo già vista posso prendermi mica già qualcosa no in realtà si potrei prendermi già l'anello ma fa un schifo queste cose mi pensavo che mi prendo solo il suo trofeo non ti sento vai su zitto ah ok allora vabbò dai qua me le tengo qua che poi se tu ti servono i materiali dal tizio quello che puoi fare purificare gli artefatti ci puoi ci sono dividi le scintopietre vabbè ma inutile però è inutile scusa dividerle cioè che una cosa grossa si divide in due perché cioè poi ti servono le cose da due o no fatta un po' fammi vedere nel potenziamenti vabbè all'inizio non penso eh no vedi tre qua ammasso proprio no no ok niente se ti serve proprio un coso se lo vuoi dividere ma penso sia una cazzata di vederlo perché poi allora io volevo purificare gli artefatti fanculo eh io lo chiudo intanto però mi sa che devo tornare anche te fanculo fanculo perché? perché ti ricordi che ci butta fuori entrambi si ma io sono già intanto nella si guarda ti è parlato con lui si in realtà dividerle servirebbe per tipo fare evolvere la roba principale ma ti sai il fatto di dividere le tiro pietre sono due che le fa diventare una che così potenzi la prima arma che vuoi e hai già è tipo come se tu prendessi un pezzo di titanite la dividi in un frammento è quello la dividi in un frammento grande oppure la puoi dividere in un frammento piccolo capito quella roba lì ma ce l'hai il decotto di bruma io non capisco che cazzo non c'è scritto cosa fa il decotto di bruma scusate ma c'è scritto aspetta info aspetta dove si vede scusa inventario è un oggetto qua c'è scritto un decotto preparato con le spirali di bruma raccolte dagli arsi di bruma un sorso ti darà la concentrazione runica ma che cazzo è la distorsione arcana la concentrazione è la barra per i poteri la distorsione arcana della magia più che sciocchi finisce riducendo sembra incredibile riescono bene mi aumenta ok mi fa aumentare ogni volta che colpisco più velocemente la barra vabbè comunque vedi che non puoi non puoi darmi le cose le schede no peccato vabbè appena ne ho usata una adesso appena finisco l'ultima basta e poi come cazzo si fanno ma vado a cercarmi come si fanno le schede dell'incolpevole ah guarda io non te ne intudo vado a guardare e poi e poi vedo un po' vabbè ci siamo fatti un po' di roba abbiamo fatto una nuova zona ci siamo fatti un bel po' di cose sono contento comunque non è andata per niente male dai ci sentiamo per o domani mattina che vediamo un po' se c'è gli altri se non ci sono facciamo qualcosa qua ancora anche perché stasettimana di nuovo è stata un'altra settimana che mi ha fatto un cazzo mi sembra non mi pare forse una forse giovedì vabbè vabbè ci sentiamo allora per domani ci sentiamo vabbè ciao 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 ciao